Operazione BLOW effettuata dalla Polizia di Stato di Tomodossola che ha portato all'arresto di 7 persone, 3 sono latitanti. Allora siamo qui con il commissario, il dottor Basilio. Allora dottore, come è nata questa operazione? Allora l'operazione denominata BLOW, diciamo dal film, erano appassionati di questo film, gli indagati. Si tratta di un'attività che ha mosso i primi passi sicuramente da un'attività investigativa svolta in modo egregio dai nostri operatori dell'ufficio investigativo del settore Polizia di Frontiera di Tomodossola che ci ha permesso di accertare gruppi criminali italiani e albanesi che erano dediti a svolgere queste attività illecite, ovvero di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Non solo, le attività illecite sono anche di diversa natura. I soggetti erano implicati anche in furti aggravati in abitazione. Furti aggravati in abitazione almeno sono 10 i furti contestati, quindi attribuibili ai soggetti. La sostanza proveniva da questo gruppo albanese, specialmente dalla provincia di Monza, Brianza e del Milanese, che riusciva a rifornire gli spacciatori di ingenti quantità di sostanza, anche 150-200 grammi di cocaina, fino anche a 15 kg di marijuana al mese. Ecco, un'operazione che ha portato al resto di 4 persone ossolane che erano dedicate allo spaccio, appunto alla distribuzione. Soprattutto i clienti si parlava di gente anche molto giovane. Sì, purtroppo questi soggetti residenti nell'Ossola spacciavano a clienti molto giovani, specialmente diciamo marijuana, e quindi si è proceduto ad arrestarli il 4 maggio e ora si ritrovano praticamente in carcere due a Verbania e due a Novara. Gli altri tre invece del gruppo albanese sono latitanti, ma siamo sulle loro tracce, ci sono investigazioni ancora in corso. Investigazioni che potrebbero portare anche a clamorosi sviluppi con un allargamento dell'inchiesta? Sì, ci sono attività ancora aperte anche al di là della zona dell'Ossola e che potrebbero portare in questa operazione ulteriori arresti. Si parla di un ingente numero ancora di soggetti da ricercare.